Il Galaxy S5 è lo smartphone LTE più atteso del momento. Le attese sono tante e pare che Samsung, nonostante un mercato smartphone sempre più saturo, sia comunque riuscita nella sua impresa di rivoluzionare ancora una volta la tendenza. Per prima cosa possiamo vedere come il Galaxy S5 si sia rinnovato già dal punto di vista del design. Le dimensioni sono leggermente superiori ma lo spessore è sempre mantenuto al minimo permettendo comunque una presa comoda anche con una mano sola, merito soprattutto della cover posteriore che restituisce un ottimo grip. Dal Galaxy S4 lo smartphone ha fatto un passo avanti guadagnando la certificazione IP67 di resistenza ad acqua e polvere. Il display è ottimo, è possibile utilizzarlo con i guanti e si dimostra davvero pronto al tatto. La luminosità è ottima e la risoluzione rende praticamente impossibile distinguere i pixel. La scheda tecnica parla chiaro, top di gamma con processore quad core da 2,5 GHz e 2 GB di RAM da affiancare ad una memoria interna da 16 o 32 GB. Connettività ai massimi livelli con wifi, Bluetooth, DLNA, NFC, GPS, MHL, USB 3.0 e radio FM. Il software installato è Android alla sua ultima versione, ossia KitKat, mentre l'interfaccia è la TouchWiz di Samsung che vede in questa versione una vera e propria rivoluzione. Grafica rinnovata, molto più moderna e piacevole. Elencare tutte le funzioni richiederebbe una recensione a parte, quindi mi limiterò ad elencare le più importanti. S5 infatti implementa la possibilità di effettuare pagamenti mediante il lettore di impronte digitali. A questo si aggiunge la comoda S Health per aiutare gli sportivi a monitorare i propri allenamenti quotidiani ed il comodo rilevatore di battito cardiaco posto sulla parte posteriore. Tra le novità più importanti non possiamo non menzionare il download booster che consente di combinare la velocità della rete wifi con quella LTE ed infine la modalità ultra risparmio energetico che permette di aumentare l'autonomia della batteria in situazioni di emergenza. Il fiore all'occhiello di questo smartphone è sicuramente la fotocamera di altissima qualità. La modalità di scatto continuo ci ha stupito, le funzioni implementate sono numerose, dalla possibilità di effettuare scatti in HDR che con messa a fuoco selettiva. Inoltre la qualità dei video è davvero eccellente. Samsung Galaxy S5 si conferma punta di diamante di casa Samsung. È sicuramente uno smartphone completo sotto ogni punto di vista, ideale per i più esigenti.